Nel racconto mediatico delle vicende giudiziarie riguardanti alcuni dirigenti dell'Accord Fenix, i lavoratori e le lavoratrici sono passati in secondo piano. In una lettera unitaria che comincia in questo modo e sottoscritta questa mattina durante il Consiglio Comunale Straordinario, tutti i lavoratori dell'ex polo elettronico dell'Aquila, i 50 circa riassunti dall'azienda di trattamento dei rifiuti elettronici finita nell'occhio della magistratura e quelli, un centinaio, in attesa di essere riassunti, difendono l'azienda nata dalle ceneri delle quattro aziende fallite del polo elettronico e grazie all'investimento dell'imprenditore inglese Ravi Shankar. Al di là dell'inchiesta giudiziaria, i lavoratori ribadiscono in piena fiducia nella magistratura, è bene ricordare che l'unico vero insediamento industriale che c'è stato all'Aquila negli ultimi anni è stato frutto, scrivono, della caparbietà soprattutto degli ex dipendenti delle quattro aziende. Un bacino di risorse professionali, prosegue la lettera, a cui Accord ha in larga parte attinto rispettando gli accordi presi nei tavoli istituzionali. I finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila avevano dato esecuzione due settimane fa a un sequestro preventivo per 5 milioni di euro, i fondi sin cui trasferiti da Invitalia nei confronti delle società e di tre persone accusate del reato di indebita percezione di contributi statali. Intanto l'azienda ha disertato il consiglio comunale straordinario convocato per questa mattina su richiesta del consigliere dell'IDV, Lelio De Santis. Sono presenti vari livelli istituzionali, il rappresentante sindacale, purtroppo manca la presenza dell'azienda che io avevo chiesto e sollecitato proprio per avere informazioni, eventualmente chiarimenti anche sulla prospettiva, questo è un fatto negativo. Di sicuro è, c'è un investimento pubblico e privato, c'è un impegno occupazionale di 128 unità, allo Stato ne sono solo 54 che arrivano a 60 con le maestranze amministrative, evidentemente non è stato possibile portare avanti, non so per quale ragione e ne dovrebbero dar conto qui in questa assise, il piano complessivo con le 128 unità. Questo è il problema vero perché si prende il danaro pubblico, utilizzo la fruizione del danaro pubblico e poi non produce, secondo un piano industriale, le occupazioni conseguenti. Questo è il punto, lo vogliamo avere chiarezza, ma ripeto, estendere il discorso più in generale a tutto il tema del lavoro che è la priorità assoluta di questa città.